la sera estiva aveva cominciato ad avvolgere il mondo nel suo misterioso amplesso lontano laggiù a occidente il sole tramontava e l'ultimo verlume del giorno che ahimè fugge veloce indugiava amorosamente sul mare e sulla spiaggia sul superbo promontorio del nostro caro vecchio ho fedele guardiano come sempre delle acque della baia sopra le rocce coperte d'alghe del litorale di sandymount e ultima ma non meno importante sulla tranquilla chiesetta da cui di quando in quando usciva a fiotti nella pace circostante una voce di preghiera per colei che nel suo immacolato fulgore un faro sempiterno per il cuore umano sbattuto dalle tempeste maria stella del mare tre amiche stavano sedute sulle rocce a godersi lo spettacolo della sera e l'aria fresca ma non troppo frizzante più e più volte si erano trovate a venir là in quel recesso preferito per fare due chiacchiere in pace accanto alle onde scintillanti e scambiarsi innocenti segreti femminili cissi keffrey eddie bordman col bambino in carrozzina e tommy e jack keffrey due maschietti riccioluti vestiti alla marinara coi relativi berrettini e su ognuno di essi la scritta h ms bellice perché tommy e jack keffrey erano due gemelli di appena quattro anni e molto rumorosi e anche un po' viziati ma con tutto ciò due tesorucci e con dei bei visini lieti e luminosi e delle mossette da innamorare farmeggiavano nella sabbia con le vanghette e i secchielli costruendo castelli come fanno i bambini o giocando col loro pallone colorato contenti come pasque ed eddie bordman cullava il pupa paffutello nella carrozzina avanti e indietro mentre lui il signorino ridacchiava soddisfatto aveva solo undici mesi e nove giorni e per quanto si reggesse ancora male sulle gambine cominciava appunto a balbettare le sue prime parolette infantili chissicheffrey si chinò su di lui per fargli solletico sulle guanciotte e sulla fossettina del mento su pupo disse chissicheffrey da bravo di forte forte voglio un po d'acqua il bambino barbugliò imitandola gioggo boacca chissicheffrey lo abbracciò il frugolino perché i bambini li piacevano tanto tanto ed era così paziente coi malatini e a tommicheffrey non si riusciva a far prendere l'olio di ricino se non c'era chissicheffrey a stringergli il naso e a promettergli la crosta fina fina della pagnotta di segale con sopra la melassa che forza di convinzione aveva quella fanciulla ma badate che pupo era buono come il pane un vero angioletto col bavaglino nuovo non crediate che chissicheffrey fosse una bella bambina viziata tipo flora mcflamsey mai si era vista al mondo una giovinetta più schietta di lei sempre con quei begli occhi da zingara ridenti una parola scherzosa sulle labbra rosse come ciliegie mature una ragazza che si faceva voler bene da tutti e anche eddie berman rise della buffa lingua che parlava il fratellino ma ecco che nacque una barruffetta tra i due signorini tommy e jackie i ragazzi si sa sono ragazzi i nostri due gemelli non erano un'eccezione all'aurea regola il pomo della discordia era un certo castello di sabbia che il piccolo jackie aveva costruito e il piccolo tommy voleva a tutti i costi abbellire architettonicamente con un portone come quello della torre martello ma se il piccolo tommy era testardo anche il piccolo jackie era ostinato e fietere al motto che dice che la casa di ogni piccolo irlandese è il suo castello si gettò addosso all'odiato rivale e andò a finire che l'aspirante aggressore ebbe la peggio e così pure triste a dirsi il castello agognato è inutile dire che le urla dello sconfitto signorino tommy attirarono l'attenzione delle due amiche vieni qui tommy urlò imperiosamente la sorella e subito e tu jackie vergognati di aver fatto cascare sulla sabbia sporca il povero tommy aspetta che ti prenda e vedrai gli occhi annebbiati dalle lacrime non sparse il piccolo tommy si avvicinò subito perché quello che diceva la sorella grande era lezze per i due gemelli ed era un ben triste spettacolo a vedersi dopo quella disavventura il berrettino da marinaio e i suoi innominabili erano pieni di sabbia ma ci si aveva una mano maestra nell'arte di alleviare i piccoli disappunti della vita e men che non si dica non si vide più neanche un grano di sabbia sul bel vestitino eppure negli occhioni azzurri brillavano ancora le calde lacrime che volevano uscire a tutti i costi e allora lei fece sparire la bua a forza di baci e minacciò con un dito il colpevole il piccolo jack e gli disse che se arrivava a prenderlo avrebbe visto cosa gli succedeva e gli occhi le danzavano a monitori jack e brutto birbante gridò prese tra le braccia il malinaretto e gli fece qualche moina per ringraziarselo come ti chiami cocco d'oro dizzi un po chi è la tua amorosa disse eddie borman è cissi forse no disse tommy tutto lacrimoso è eddie borman la tua amorosa si informò cissi no disse tommy lo so io disse eddie borman con un tono non troppo amichevole e uno sguardo impertinente dei suoi occhi di mio lo so io chi è l'amorosa di tommy è gerti l'amorosa di tommy no disse tommy sul punto di piangere il pronto senso materno di cissi capì cos'era che non andava e sussurrò a eddie borman di portarlo là dietro la carrozzina dove i signorini non potevano vedere e di badare che non si bagnasse le scarpe gialle nuove ma gerti chi era gerti mcdowell che era seduta vicino alle compagne perduta nei suoi pensieri lo sguardo fisso nell'infinito era a vero dire il più bel esempio che si potesse desiderar di vedere di giovane bellezza irlandese era riconosciuta come una bellezza da tutti quelli che la circondavano benché come la gente soleva dire fosse più una galtrap che una mcdowell la sua figurina era svelta e graziosa un tantino esile se vogliamo ma quelle pastiglie di ferro che stava prendendo da qualche tempo le avevano fatto un mondo di bene molto meglio delle pillole per la donna della vedova welch e stava molto meglio riguardo a quelle perdite che era solita avere e a quel senso di stanchezza il pallore cereo del volto aveva anche di spirituale nelle sue burne a purezza per quanto la bocca a bocciolo di rosa fosse un vero arco di cupido di perfezione greca le sue mani erano di un alabastro finemente venato con dita affusolate bianche quanto avevano potuto renderle il sugo di limone e la regina delle pomate però non era vero che si mettesse i guanti di camoscio quando era a letto o facesse i pedilufi di latte aveva detto una volta a Eddie Borman Bertha Suppler mentendo spudoratamente quando era ai ferricorti con Gertie le amichette avevano naturalmente le loro questioncelle di tanto in tanto come tutti gli altri mortali e le aveva detto di non far sapere qualsiasi cosa succedesse che gliele aveva detto lei e no non le avrebbe più rivolto la parola in vita sua no prendiamo l'ora al merito c'era un'innata raffinatezza una languida regale auteur in Gertie di cui erano prove inequivocabili le sue mani delicate e il collo del piede inarcato se solo il fato benigno avesse voluto che nascesse gentil donna di alto rango al suo giusto posto e se solo avesse usufruito d'una buona istruzione Gertie McDowell sarebbe stata tranquillamente alla pari accanto a qualsiasi altra grandama e la si sarebbe vista adorna di vesti preziose con gioielli sulla fronte e nobili adoratori ai piedi in gara l'uno con l'altro a renderle devoto omaggio e chissà se non fosse questo l'amore che avrebbe potuto essere a donare talora al suo volto dai lineamenti così dolci quella intensità dai mille taciti significati e a impartire uno strano senso di vaga nostalgia ai vagli occhi quel fascino cui pochi sapevano resistere perché le donne hanno occhi così magliardi quelle di Gertie erano del più puro azzurro irlandese messo in risalto da ciglia lucenti e nere sopracciglia espressive ci fu un tempo in cui quelle sopracciglia non erano così seriche e seducenti fu madame vera veriti direttrice della rubrica della donna bella della novelle della principessa che per prima le consigliò di provare la ciglioleina che dava quell'espressione penetrante agli occhi che stava tanto bene alle signore che dettavano legge in fatto di moda e lei non aveva mai avuto da lamentarsene poi c'era il sistema di guarire scientificamente dalla tendenza ad arrossire e come diventare più alte aumentate la vostra statura e avrete un bel visetto ma il naso quello andava bene per Mrs. Steingham che ce l'aveva a patata ma ciò di cui Gertie andava a buon diritto più orgogliosa era l'abbondanza dei suoi meravigliosi capelli erano di un castano scuro con onde naturali se li era tagliati proprio quel giorno perché c'era la luna nuova e le ricadevano attorno alla testolina in una profusione di riccioli lussurezzanti e poi si era tagliata le unghie il giovedì porta abbondanza e proprio ora le parole di Edie come un rossore rivelatore delicato come il più tenue petalo di rosa e imporporava le guanze ella appariva così graziosa nella sua dolce pudicizia virginale che di sicuro in tutta l'Irlanda bella benedetta da Dio non vera di lei l'eguale per un istante rimase silenziosa coi begli occhi tristi abbassati stava quasi per ribattere ma qualcosa le trattenne le parole sulla punta della lingua la sua indole le suggeriva di parlare apertamente la sua dignità le disse di tacere le graziose labbra tennero il broncio per un po' ma poi alzò gli occhi e scoppiò in una gaia risatina che aveva in sé tutta la freschezza di una prima mattina di maggio non sapeva benissimo nessuno meglio di lei che cosa faceva dire così a quella bisbetica di Eddie era perché lui era un po' più freddo con lei e invece non erano altro che liti di innamorati come accade in questi casi qualcuno torceva il naso perché quel ragazzo con la bicicletta andava sempre su e giù davanti alle sue finestre solo che ora suo padre lo teneva a casa la sera a studiar sodo per la borsa di studio delle scuole medie e lui sarebbe andato a studiare da dottore a Trinity College quando finiva il liceo come suo fratello Willy che era nella squadra calcistica all'università di Trinity College forse lui si curava poco di quello che provava lei quel vuoto doloroso nel cuore che ogni tanto la trafiggeva ma era giovane e che può dire se col tempo non avrebbe imparato ad amarla erano protestanti nella sua famiglia e Gerti naturalmente sapeva chi veniva per primo e dopo di lui la Santa Vergine e poi San Giuseppe ma egli era innegabilmente bello con un naso perfetto ad era quel che sembrava signore fino alla punta dei capelli e poi la forma della testa da dietro senza berretto lei l'avrebbe riconosciuta dovunque tanto era fuori dell'ordinario e come svoltava l'ampione in bicicletta senza mani e anche il buon odore di quelle sigarette e oltretutto erano alte e uguali e per questa ragione Eddie Borman si credeva tanto furba perché lui non andava in su e in giù davanti a quel suo pezzetto di giardino Gerti era vestita semplicemente ma con il buon gusto istintivo di una devota di madonna moda perché presentiva una certa probabilità che Eddie fosse in giro una bella camicetta blu elettrico tinta con palline coloranti perché l'illustrazione femminile riteneva che il blu elettrico sarebbe venuto di moda con un'elegante scollatura a vu fino al sommo dei seni e un taschino in cui teneva sempre un po' di ovatta imbevuta del suo profumo favorito perché il fazzoletto guasta la linea è una gonna da passeggio a tre quarti blu scura non molto ampia mettevano un risalto alla perfezione la sua svelta graziosa figurina portava un amoruccio di cappello sbarazzino di paglia cioccolato a larghe tese guarnito a contrasto con una sottotesa in ciniglia azzurro germano e di lato un nodo a farfalla in colore tutto il pomeriggio del martedì prima era andata alla caccia di qualcosa che intonasse con la ciniglia ma alla fine aveva trovato alla liquidazione estiva di clary proprio quel che cercava un fondo di magazzino leggermente macchiato ma non ce se ne accorge alta sette dita due scellini e un penny aveva fatto tutto da sé e che gioia fu la sua quando poi ce lo provò sorridendo al grazioso riflesso che lo specchio le rimandava indietro e quando lo mise sulla caraffa dell'acqua perché mantenesse la forma sapeva bene che avrebbe fatto ridere verde certe persone di sua conoscenza le sue scarpe erano l'ultimo grido in fatto di calzature edy burkman andava orgogliosa d'essere molto petit ma non aveva mai avuto un piede come gherty mcdowell un trentadue e acqua in bocca lago laghetto con le punte di copale e solo una fibbia elegante al collo del piede inargato la caviglia tornita mostrava le sue perfette proporzioni sotto la gonna e lo stesso si dica di quel tanto e non più degli arti perfetti inguainati in calze fini con talloni rinforzati e risvolto ampio quanto alla biancheria intima era la cura principale di gherty e chiunque conosca le trepide speranze e le apprezzioni dei bei diciassette anni per quanto gherty li avesse già salutati come potrà avere il coraggio di biasimarla aveva quattro completini deliziosi squisitamente ricamati tre pezzi e in più le camicie da notte e ognuno con nastri di diverso colore rosa azzurro pallido lilla e verde pisello e li metteva ad asciugare e li sbiancava lei stessa quando tornavano dalla lavandaia e se li stirava e aveva un pezzo di mattone per posarci il ferro perché non si fidava delle lavandaie nemmeno si poteva tenerle d'occhio tanto bruciacchiavano la roba vestiva di blu perché portava fortuna sperando contro ogni aspettativa era il suo colore e il colore delle spose anche devono sempre aver qualcosa di blu addosso perché il verde che indossava otto giorni fa aveva portato scarogna perché suo padre lo aveva rinchiuso a studiare per quella borsa di studio delle medie perché lei pensava che forse poteva essere in giro perché mentre si vestiva quella mattina si stava quasi infilando quel vecchio paio alla rovescia e questo era un buon segno e voleva dire che si incontrava l'innamorato se si mettevano alla rovescia purché non fosse di venerdì però però quell'espressione tesa del viso un dolor cocente la rode tuttavia e l'anima che le appare negli occhi e avrebbe dato chissà cosa per essere nell'intimità della sua cameretta virginale dove liberando le lacrime avrebbe fatto un bel pianto e dato sfogo ai suoi sentimenti repressi non troppo però perché sapeva come si piange senza scomporsi davanti allo specchio sai carina Gertie le diceva la luce pallidiccia della sera cade su un volto infinitamente triste e pensoso Gertie McDowell si strugge in vano sì aveva saputo fin dal primo giorno che quel sogno occhi aperti di un matrimonio che è stato fissato e le campane suonano per Mrs. Reggie Willie T.C.D. perché colei che sposerà il fratello maggiore sarà Mrs. Willie e nella cronaca mondana Mrs. Gertrude Willie portava una sontuosa toiletta grigia guarnita di costose volpe azzurre non si sarebbe realizzato lui era troppo rovane per capire certe cose non credeva certo all'amore che è prerogativa naturale della donna la sera di quella festa da Stoer tanto tempo fa portava ancora i pantaloni corti quando rimasero soli e lui furtivamente le cinse la vita lei diventò bianca come un cencio la chiamò piccola mia con una strana voce velata e rubò un mezzo bacio il primo ma solo la punta del naso e poi in fretta via dalla stanza dicendo qualcosa a proposito dei rinfreschi ragazzo focoso la forza di carattere non era mai stata il forte di Reggie Willy e chi avrà il cuore e la mano di Gertie McNoel dovrà essere un uomo fra gli uomini ma aspettare sempre aspettare di essere chiesta ed era un anno bisestile e sarebbe passato presto il suo ideale non è un principe azzurro che le deponga ai piedi un raro e mirabile amore ma piuttosto un uomo virile dal volto forte e sereno che ancora non abbia trovato il suo ideale con forse tra i capelli un'ombra di grigio e che la comprenda la stringa tra le braccia protettrici e la serri a sé con tutte le forze della sua natura profondamente appassionata e la conforti con un interminabile bacio sarebbe il paradiso per un uomo così ella si strugge in questa balsamica sera d'estate con tutto il cuore anela di essere solamente sua la sua sposa legittima in ricchezza in povertà in malattia e in salute finché la morte non ci separi da questo fino a questo giorno in poi e mentre Eddie Borman era col suo piccolo Tommy dietro alla carrozzina lei stava giusto pensando se sarebbe mai venuto il giorno in cui avrebbe potuto dirsi la sua mogliettina futura allora avrebbero potuto parlare di lei fino a scoppiare dalla bile anche Berta Sapl e Eddie quella sputa veleno perché lei avrebbe avuto ventidue anni a novembre e lei ne avrebbe avuto cura anche materialmente perché Gerti era una donnina saggia e sapeva che a un uomo piace sentirsi a casa sua le sue torte dorate cotte a puntino e padding della regina Anna con la sua squisita cremosità avevano riportato fervi di plausi da tutti perché lei aveva una manina di fata anche per accendere il fuoco spolverizzare la farina fina con lievito e girare sempre nello stesso senso e poi scremare il latte e zucchero e sbatter bene le chiare d'uovo però non le piaceva mangiarle se c'era gente che la intimidiva ma spesso le avveniva di chiedersi perché non si può mangiare qualcosa di poetico come rose e violette e avrebbe avuto un salottino ben abbobiliato con quadri e incisioni e la fotografia di Gary Owen il cagnone di Lonno Galtrap a cui solo mancava la parola era come una persona e fodere di cinze per le poltrone e quel portacrostini d'argento alla liquidazione estiva di Clary come ce l'hanno nelle case dei ricchi sarebbe stato alto con spalle larghe aveva sempre pensato con ammirazione a un uomo alto come marito con denti bianchi splendenti sotto un bel paio di baffi ben curati e sarebbero andati nel continente per la luna di miele tre settimane di incanto e poi una volta stabilitisi in una bella comoda confortevole casettina domestica tutte le mattine avrebbero fatto insieme la colazione semplice ma servita in modo inappuntabile proprio per loro due e basta e prima di andare a lavorare lui avrebbe abbracciato stretta stretta la sua mogliettina e l'avrebbe guardata per un momento nel fondo degli occhi Eddie Burman chiese a Tommy Keffrey se aveva fatto e lui disse di sì e allora lei gli abbottonò i pantaloncini e gli disse di correre a giocare con Zeki e di star buono ora e di non fare a pugni ma Tommy disse che voleva la palla ed gli disse di no che il piccino giocava con la palla e che se gliela prendeva sarebbero stati dolori ma Tommy disse che era la sua palla e che lui voleva la sua palla e si dice a battere i piedi guarda un po' che caratterino era già un ometto Tommy Keffrey fin da quando non portava più il grembiolino Eddie gli disse di no e di no di levarsi di torno e disse a Cissi Keffrey di non dargli la vinta non sei mica mia sorella disse quel cattivaccio di Tommy è mia la palla ma Cissi Keffrey disse al piccolo Brodman di guardare su su in alto dove lei aveva il dito e gli strappò la palla e la gettò sulla sabbia e Tommy via dietro di corsa dato che l'aveva avuta vinta qualsiasi cosa per amor della pace disse Cissi ridendo e si mise a fare il solletico sulle gote del frugoletto per distrarlo e si mise a giocare a ecco c'è il sindaco ecco i due cavalli ecco la carrozza di pasta frolla ed eccolo che arriva piccino piccino picciò ma Eddie si infuriò come un demonio perché lui la spuntava sempre in quel modo e tutti gliele davano vinte io gliele darei volentieri una cosa disse davvero e non sto a dire dove sul totò disse Cissi ridendo allegramente Garthie MacTowell chinò il capo e si imporporò all'idea che Cissi dicesse una parola come quella a voce alta e lei se ne sarebbe vergognata da morire e arrossì di un bel rosso acceso e Eddie Borman disse che era certa che il signore di fronte a lei l'aveva sentita ma Cissi non importava un fico secco lascia che senta disse con una mossa birichina della testa e arricciando il nasino provocante gliela do anche a lui nello stesso posto senza dargli tempo di dire ma quella pazzarella di Cissi con quei cernecchi da spaventapasseri eppure ti faceva ridere certe volte per esempio quando ti chiedeva se non volevi dell'altro tè cinese e l'ampellata di marmoni e anche quando si diceva caraffe e visi d'uomini sulle unghie con l'inchiostro rosso da farti schiantar dal ridere quando voleva andare in quel posto e diceva che voleva correre a far visita alla signorina Bianchi c'era tutta lei in queste cose ci succia e chi si potrà scordare la sera che si travestì col vestito e il cappello del padre e i baffi dipinti col sughero bruciato e andò a spasso giù per Tritonville Road fumando una sigaretta nessuno che le stesse a pari per il buon umore però era la sincerità in persona uno degli spiriti più corazzosi e leali che siano mai comparsi sulla terra non una di quelle con due facce troppo dolci per non darti la nausea ed ecco che si levò nell'aria un rumore di voci e le tonanti armonie di un organo era un ritiro per uomini della società di temperanza diretto dal padre missionario era valendo John Huggs l'osario predica e benedizione del santissimo sacramento erano la riuniti senza distinzione di classi sociali ed era davvero uno spettacolo edificante da vedere in quel semplice tempietto presso le onde del mare dopo le tempeste di questo mondo di fatica in ginocchio ai piedi dell'immacolata recitando le litanie di nostra signora di Loreto scongiurandola di intercedere per loro le vecchie parole familiari Anta Maria Santa Vergine dei Vergini suonava tanto triste alle orecchie della povera Gertie se il padre avesse solo evitato le grinfie del demone del bere con un voto oppure con quelle polverine per disabituare al bere nel settimanale di Pearson ora lei se la scarruzzerebbe nella sua vettura seconda a nessuno più e più volte si era ripetuta mentre meditava accanto ai tizioni semispenti in una cupa fantasticheria senza lampada perché non poteva soffrire due luci o più di una volta mentre guardava fuori della finestra con occhi sognanti per ore e ore cadere la pioggia sulla secchia ruggiosa e pensava pensava ma quella sozza pozione che aveva rovinato tanti focolari e tante case aveva gettato la sua ombra sui giorni della sua infanzia anzi aveva dovuto assistere nel cuore della famiglia ad atti di violenza causati dall'intemperanza e vedere il proprio padre in preda ai fumi dell'alcol dimenticare completamente se stesso perché se c'era una cosa al mondo che Gerti sapeva era che un uomo che alzi la mano su una donna se non per carezzarla merita di essere bollato come il più vile tra i vili e ancora cantavano le voci supplicando la vergine potente la vergine clemente e Gerti avvolta nei suoi pensieri a malapena vedeva o udiva le sue compagne o i gemelli intenti ai loro giochi infantili o il signore venuto da Sandy Mouth Green che Cissi Keffrey diceva che assomigliava tanto a se stesso che andava sulla spiaggia a fare due passi non lo si era mai visto Brillo eppure a onta ad ogni altra considerazione non avrebbe voluto averlo come padre perché era troppo vecchio o per altro o per via della faccia era un caso lampante di antipatia istintiva o per quel naso lucido coperto di pedicelli e i baffi giallicci un po' bianchi sotto il naso povero babbo con tutti i suoi difetti lei lo amava ancora quando cantava Maria come ti devo far la corte oh il mio amor e il mio nido alla rochelle e avevano per desinare cozza bollita e un'insalata di lattuga con la maionese in scatola l'azenby a cena e quando cantava la luna è sorta insieme a mister dignam che è morto all'improvviso ed era già stato seppellito dio ne abbia misericordia di un colpo era il compleanno della mamma sì e charlie era a casa in vacanza e tom e mister dignam e mrs petzi e freddy dignam dovevano farsi fotografare tutti insieme chi avrebbe creduto che la fine fosse così vicina ora egli riposava per sempre e sua madre gli disse che quello doveva essere un avvertimento per lui per il resto della vita e lui non aveva neanche potuto andare al funerale per via della gotta e lei era dovuta andare in città per prendergli lettere e campioni in ufficio del linoleum di sughero catsby disegni artistici in esclusiva degno di un palazzo massima resistenza all'usura e sempre lucido e allegro in casa una filvola d'oro quella gherty proprio come un'altra mammina nella casa e poi un angelo del focolare con un cuoricino che valeva tanto oro quanto pesava e quando mamma aveva quei terribili mal di testa che se la sentiva scoppiare chi mai le passava il mentolo sulla fronte se non gherty ben che non le piacesse che mamma fiutasse il tabacco e questa era proprio la sola cosa su cui si fossero bisticciate qualche volta stabaccare tutti dicevano un monte di bene di lei e delle sue maniere gentili era gherty che chiudeva il gas tutte le sere ed era gherty che aveva attaccato al muro in quel posticino dove non dimenticava mai di buttare ogni quindici giorni il clorato di calce il calendario natalizio di mister tanni il droghiere quella figura dei giorni alcioni dove un giovin signore vestito come si usava a quel tempo con un tricorno in testa offriva mazzo di fiori alla dama del cuore con la cavalleria del bel tempo antico attraverso la finestra e con i vetri piombati si vedeva bene che c'era tutta una storia dietro i colori poi erano stupendi era vestita di un bianco morbido e attillato in una posa studiata e il signore era in cioccolato e aveva l'aspetto di un vero aristocratico riguardava spesso con occhi sognanti quando era là per una certa ragione e si palpava le braccia che erano bianche e morbide come quelle di lei con le maniche rimboccate e pensava a quei tempi lontani perché aveva scoperto nel dizionario fonetico Walker di nonno Galtrop che cosa voleva dire giorni alcioni i gemelli stavano ora giocando come devono fare due bravi fratelli finché il piccolo Jackie che era davvero un monellaccio c'è poco da dire mandò apposta la palla con un calcio fortissimo giù verso le rocce algose inutile dirvi che il povero Tommy non tardò a manifestare la sua costernazione ma fortunatamente il signore in nero che se ne stava là da solo venne arditamente alla riscossa e intercettò la palla i nostri due campioni reclamarono il balocco con vigorosa grida e a scanso di guai Cissi Kefri gridò al signore se per piacere la tirava a lei il signore prese la mira due o tre volte e poi la tirò su per la spiaggia verso Cissi Kefri ma la palla rotolò giù per il pendio e si fermò proprio sotto la gonna di Gerti vicino alla pozzanghera sotto alla roccia i gemelli rumoreggiarono di nuovo per averla e Cissi le disse di tirare un calcio alla palla e lasciar che facessero pure a pugni fra loro allora Gerti tirò indietro un piede ma avrebbe voluto che quella stupida palla non fosse rotolata fino a lei le dette un calcio ma la mancò e a Edie e Cissi risero che sbaglia riprovi disse Eddie Burman Gerti sorrise assentendo e si morse un labbro la guancia graziosa le si soffuse di un rosa tenue ma era decisa a fargliela vedere lei e allora si alzò un pochino la gonna ma appena quanto bastava le prese la mira e dette alla palla un bel calcione e questa volta andò a finire chissà dove e i due gemelli via dietro di corsa verso la ghiaia della riva pura gerosia era e nient'altro si capisce per attirar l'attenzione per via di quel signore di fronte che stava a guardare sentì il caldo rossore sempre un segnale di pericolo per Gerti McDowell che le saliva e ardeva nelle guance fino ad allora si erano scambiati solo sguardi dei più casuali ma ora di sotto la tesa del cappello nuovo ella azzertò uno sguardo verso di lui e il volto che incontrò il suo sguardo là nella luce del crepuscolo smorto e dai lineamenti stranamente tesi ne sembrò il più triste che mai avesse veduto attraverso la finestra aperta della chiesa l'incenso fragrante giungeva sulle ali della brezza e con esso i nomi fragranti di colei che fu concepita senza macchia di peccato originale vaso spirituale prega per noi vaso onorabile prega per noi vaso in signa di devozione prega per noi rosa mistica e vi erano là cuori consunti dalle preoccupazioni e gente che lavorava per guadagnarsi il pane quotidiano e molti che avevano errato e vagato con gli occhi uviti di contrizione ma ciò nonostante brillanti di speranza perché il reverento padre Hux aveva detto loro quello che il grande san bernardo aveva detto nella sua famosa preghiera a maria il potere di intercessione della pietosissima vergine che non si era mai inteso nei secoli che alcuno avendo implorato il suo possente patrocinio fosse rimasto abbandonato i giamelli stavano ora giocando di nuovo allegramente perché i dolori della fanciullezza sono fuggevoli come gli acquazzoni d'estate ci si seguitò a giocare col piccolo Bormen finché questo non chiocciò di Letizia battendo in aria le manine cucù gridava dietro lei il mantice della carrozzina e Eddie chiedeva dove era andata Cissi e allora Cissi metteva fuori la testa e gridava ah e parola mia come ci si divertiva lo metto e poi gli disse di dire papà di papà pupo di papà 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 e pupo faceva del suo meglio per dirlo perché era molto intelligente per essere di undici mesi dicevano tutti e grande per la sua età e il ritratto della salute proprio un amoruccio e sarebbe certo diventato una persona importante dicevano ah già ah già già ah già Cissi gli pulì la boccuccia col bavaglino e voleva che stesse seduto per benino e dicesse papà papà ma quando slacciò la cinghia cacciò un urlo Gesù mio era tutto bagnato e bisognava ripiegargli sotto la copertina dall'altra parte naturalmente sua maestà infantile fu quanto mai indignato per tali formalità di toilette e lo fece sapere a tutti abba 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 e due lacrimoni grossi belli grossi gli scorrevano giù per le guanze era inutile cercare di calmarlo con no no pupino no e dirgli del ciucciu e dov'era il tutù ma Cissi era sempre pieno di risorse gli miso in bocca la tettarella del biberon e quel piccolo miscredente si calmò subito gli arti avrebbe proprio voluto che portassero via quel frignone a casa invece di lasciarlo là a darli ai nervi non era ora da star fuori e anche quegli altri due marmocchi lasciò vagare lo sguardo sul mare infinito era come le pittura che quell'uomo faceva sul marciapiede con tutti i gessi colorati e che peccato lasciarle lì a farle scancellar tutte la sera e le nuvole che compaiono e il faro di Bailey sul capo Howe e sentire una musica come quella e il profumo dell'incenso che bruciavano in chiesa come una brezza e mentre guardava il suo cuore si mise a battere forte sì era proprio lei che quel uomo stava guardando e il suo sguardo diceva tante cose i suoi occhi bruciavano dentro di lei come se la penetrassero da parte a parte che leggessero l'anima occhi meravigliosi erano superbamente espressivi ma se era da fidarsene la gente era così strana lei si accorgeva benissimo dai suoi occhi scuri e dal pallido volto intellettuale che era uno straniero l'immagine di quella sua foto di Martin Harvey l'itolo delle recite a prezzi popolari eccettuati i baffi che lei preferiva perché lei non era fanatica delle scene come Winnie Rippingham che voleva che loro due si vestissero sempre allo stesso modo per via di una commedia ma da dove lui era seduto non poteva vedere se avessero il naso aquilino oppure un tantino retrusse era in lutto stretto questo lo si vedeva bene la storia di un incubo doloroso era impressa sul suo viso avrebbe dato qualsiasi cosa per sapere cos'era guardava in alto con occhi tanto fissi e intensi e le aveva visto tirare il calcio alla palla e forse avrebbe anche visto le lucci le fibbie d'azzaio delle sue scarpe se lei le faceva ondeggiare così sopra pensiero con la punta in giù era contenta che qualcosa le avesse suggerito di metterci le calze trasparenti pensando che Reggie Willy fosse in giro ma tutto ciò era ormai lontano ecco quel che aveva tante volte sognato era lui che importava e c'era gioia sul suo volto perché lei lo voleva perché sentiva istintivamente che egli era diverso da tutti il cuore stesso della fanciulla donna volò verso di lui l'uomo dei suoi sogni perché aveva capito all'istante che era lui se gli aveva sofferto contro di lui si era peccato più che non fosse gli stesso peccatore eppure anche se fosse stato un peccatore un uomo cattivo a lei non importava anche se era un protestante o un metodista lei lo avrebbe potuto facilmente convertire se la amava veramente c'erano ferite che si guarivano solo col balsamo del cuore era una vera donna lei non come tante altre farfalline senza femminilità che le aveva conosciute quelle che vanno in bicicletta per mettere in mostra ciò che non hanno e lei invece bramava di saper tutto di perdonare tutto se mai si fosse innamorato di lei fargli dimenticare ogni ricordo del passato forse allora lui l'avrebbe abbrazzata dolcemente davvero uomo premendo contro di sé il suo morbido corpo e l'avrebbe amata la sua fanciullina solo perché era lei rifugio dei peccatori consolatrice degli afflitti ora pronobis giustamente è stato detto che chi la preghi con fede e costanza mai si perderà o sarà abbandonato ebbene ha ragione e lei è anche un porto di rifugio per gli afflitti a causa dei sette dolori che le trafissero il cuore a Gerti pareva proprio di vedere tutta la scena della chiesa le vetrate istoliate illuminate i ceri, i fiori e gli stendardi azzurri della confraternita della Santa Vergine e padre Conroy che serviva il canonico o Henlong all'altare andando e venendo con l'oraba in mano e gli occhi bassi sembrava quasi un santo e il suo confessionale era così tranquillo e pulito e buio e le sue mani erano proprio come di cera bianca e se lei si fosse mai fatta suora domenicana con quel bell'abito bianco forse lui sarebbe venuto al convento per la novena di San Domenico e disse quella volta quando lei gli disse di quella cosa in confessione imporporandosi fino alla radice dei capelli per timore che la vedesse di non turbarsi perché quella era solo la voce della natura e che tutti eravamo soggetti alle leggi di natura disse in questa vita e che quello non era peccato perché ciò veniva dalla natura della donna secondo il volere di Dio disse e che perfino la Santa Vergine aveva detto all'Arcangelo Gabriele sia mi fatto secondo la tua parola era tanto gentile e santo e lei spesso aveva pensato e pensato di fare una copritaiera con le ruche a disegno floreale ricamate per regalarglielo oppure un orologio ma un orologio ce l'avevano l'aveva visto sul caminetto bianco e oro con un canarino che usciva dalla porticina per dire l'ora quel giorno che era andata là per i fiori delle quarant'ore perché era un po' difficile sapere che tipo di regalo fare o forse un album con le vedute a colori di Dublino o qualche altro posto quei due marmocchi esasperanti ricominciarono a litigare e Jackie tirò la palla verso il mare e tutti e due le corsero dietro ragazzacci maleducati come i scimmie qualcuno avrebbe dovuto sonargile di santa ragione per farli stare al loro posto a tutti e due e ci si è di urlarono che tornassero indietro perché avevano paura che salisse la marea e affogassero Jackie Tommy come dire al muro ecco come stavano a sentire allora ci si disse che era l'ultima volta che li portava fuori salta su e li chiamò e corse giù per il pendio oltrepassando l'uomo scrollandosi i capelli dietro la testa che avevano un bel colore se fossero stati un po' più abbondanti ma con tutta quella roba che ci andava sempre stropicciando sopra non riusciva a farli crescere di più perché non era natura loro e lei poteva anche dannarcisi l'anima corse a gran passi di struzzo miracolo che non le si stracciasse sul fianco quella gonna troppo stretta perché che ci si cheffri era proprio come un ragazzaccio e si buttava subito avanti quando le pareva ci fosse una buona occasione di mettersi in mostra e siccome correva forte sgambettava a quel modo in maniera che lui potesse vedere il fondo della sottoveste e le sue caviglie tutte pelle e ossa fin dove era possibile e sarebbe stato proprio bene se avesse inciampato accidentalmente apposta in qualcosa con quei tacchi alti alla francese che portava per semblar più alta gli avesse fatto un bel capitombolo tablo avrebbe stato un bel exposé per un signore come quello regina degli angeli regina dei patriarchi regina dei profeti di tutti i santi essi pregavano regina del santissimo rosario e poi padre conroy porse il turibolo al canonico ohenlon ed egli ci mise l'incenso e incensò il santissimo e ci si cheffri prese i due gemelli e bruciava dalla voglia di dar loro una solenne sventola sulle orecchie ma non lo fece perché pensò che lui forse la guardava ma un errore più grande non poteva farlo perché gerti vedeva benissimo senza guardare che lui non le toglieva gli occhi di dosso e allora il canonico ohenlon rese il turibolo a padre conroy e si inginocchiò guardando verso il santissimo e il coro cominciò a cantare tanto mergo e lei muoveva il piede a tempo avanti e indietro mentre la musica saliva e scendeva al tantum ergo sacramentum tre undici le aveva pagate quelle calze da Sparrow in George Street martedì no lunedì prima di Pasqua e ancora non si erano smagliate una volta ad era quello che lui guardava per via della trasparenza e non quell'altro paio insignificante senza linea né forma aveva una bella faccia tosta quella là perché lui ce li aveva gli occhi per vedere e notava la differenza si risalì la spiazza con i gemelli e la loro palla e con il cappello messo all'ameglio sulle ventitré dopo quella corsa e sembrava una strega a tirarsi dietro i due ragazzini e quella camicetta da quattro soldi che aveva comprato appena da quindici giorni che le stava come uno straccio e un pezzo di sottoveste che veniva fuori come in una caricatura guardi si levò il cappello per un momento per aggiustarsi i capelli e mai una più deliziosa ed elegante testolina di chiome castane fu vista su spalle di fanciulla una piccola visione radiosa in vero di una dolcezza da fare impazzire non bisognerebbe farne di strada per trovare una testa di capelli come quella ne pareva quasi di vedere il rapido flusso di ammirazione che le giungeva in risposta dagli occhi di lui e la fece vibrare nervo a nervo si mise il cappello in modo da poterlo guardare di sotto la tesa e mosse la scarpetta col fermaglio più svelta perché le mancò il fiato nel vedere l'espressione di quegli occhi egli la adocchiava come un serpente addocchio alla preda il suo istinto di donna le disse che aveva risvegliato il diavolo in lui e a quell'idea una fiamma di porpora le corse dalla gola alla fronte finché il colore incantevole del suo volto non divenne quello di una rosa accesa anche Eddie Bordman se ne stava accorgendo perché guardava Gerti in tralice sorridendo a fior di labbra con quegli occhiali da zittellona facendo finta di cullare il bambino ed era una vera zanzara dispettosa per sempre lo sarebbe stata e per questo nessuno se la faceva con lei ficcava sempre il naso dove non erano affari suoi e disse a Gerti cosa non darei per sapere che pensi come rispose Gerti con un sorriso preso più smagliante dai più candidi denti del mondo stavo solo pensando se non è tardi perché lei avrebbe pagato qualsiasi cosa perché portassero quei due mocciosi e il pupo a casa buonanotte e per questo aveva accennato delicatamente al fatto che era tardi e quando arrivò Cissi Edile chiese l'ora e Miss Cissi quella linguaccia disse che era l'ora del bacio e mezzo e ora di ribaciarsi ma Edile voleva saperlo perché avevano detto loro di tornar presto aspetta disse Cissi lo vado a chiedere al zio Peppe laggiù che ore sono alla sua patacca così ci andò e quando lui la vide avvicinarsi lei gli vide tirare fuori una mano di tasca innervosito e mettersi a giocherellare con le catene dell'orologio guardando la chiesa per quanto indovinasse la sua indole passionale Gerti gli vedeva anche un assoluto dominio di sé un momento prima era là affascinato da una bellezza che gli aveva fatto spalancare gli occhi e il momento seguente era un posato signore per l'espressione grave il dominio di sé impresso in ogni tratto della sua distinta figura Cissi disse che la scusasse gli dispiaceva dirgli che ora erano e Gerti lo vide tirare fuori l'orologio accostarcisi l'orecchio e alzar gli occhi schiarirsi la gola e disse che gli dispiaceva molto ma gli si era affermato l'orologio ma credeva che fossero le otto passate perché il sole era tramontato aveva un accento da persona colta e per quanto scandisse marcatamente il suo dire c'era come l'ombra di un tremito nel dolce tono della sua voce Cissi disse grazie e tornò indietro con la lingua fuori e disse che lo zio aveva detto che il suo arnese non funzionava allora si misero a cantare il secondo versetto del Tantumergo e il canonico O'Hanlon si alzò di nuovo e incensò il Santissimo e si inginocchiò e disse a padre Conroy che uno dei ceri stava per appiccare il fuoco ai fiori e padre Conroy si alzò e lo accomodò e lei vedeva il signore che caricava l'orologio e ne ascoltava il tichettio mentre lei dondolava ancora di più la gamba ritmicamente avanti e indietro ci stava facendo buio ma lui ci vedeva e si guidava a guardare mentre caricava l'orologio o comunque ci armeggiava intorno e poi lo rimisce a posto e si infilò di nuovo le mani in tasca provò una sensazione come di qualcosa che la pervadesse tutta e si accorse dall'irritazione del cuoio capelluto e della pelle sotto il busto che le succedeva un'altra volta quella cosa perché anche l'ultima volta era stato quando si era tagliata i capelli per via della luna nuova i suoi occhi scuri si fissarono di nuovo su di lei bevendone ogni linea e ogni tratto come in una vera e propria adorazione davanti a un sacrario semmai ci fu aperta ammirazione nello sguardo appassionato di un uomo ma si poteva vedere chiaramente là sul volto di lui è per te Gertrude Macdowell me lo sai bene e di cominciò i preparativi della partenza e sarebbe stata ora e Gerti osservò che quel suo lieve accenno aveva sortito l'effetto desiderato perché era una bella camminata sulla spiaggia prima di arrivare al punto dove poteva passare la carrozzina e ci si levò il berretto ai due gemelli e ravviò loro i capelli per rendersi interessante si capisce e il canonico O'Henlon si alzò con la pianeta che gli faceva una gobba dietro al collo e padre Conroy gli porse la carta da leggere panem de cielo prestitisti eis e Eddie e Cissi parlarono dell'ora tutto il tempo e le facevano domande ma Gerti rese loro pan per focaccia e rispose con gelida cortesia quando Eddie le chiese se il suo cuore fosse infranto perché il suo ragazzo l'aveva piantata Gerti ebbe una contrazione spasmodica un lampo freddo e fuggevole le balenò negli occhi in cui poteva leggersi l'espressione di uno smisurato disprezzo le doleva oh sì bruciava sul vivo perché Eddie aveva quel suo modo di dir cose del genere senza parere e sapeva benissimo che ferivano da quella sciagulata piccola gatta che non era altro le labbra di Gerti si dischiusero rapidamente per pronunciare quella parola ma ricacciò indietro a forza il singhiozzo che le saliva in gola così esile così impeccabile così perfettamente tornita che un artista l'avrebbe inseguita nei suoi sogni lo aveva amato più di quanto egli non potesse immaginare infedele dal cuore vuoto e volubile come tutti quelli del suo sesso non avrebbe mai capito cosa aveva significato per lei ma per un istante l'azzurro dei suoi occhi avvampò di lacrime cocenti i loro occhi la scandagliavano senza pietà con uno sforzo eroico rispose la giante guardando la sua nuova conquista perché loro vedessero oh ribette Gerti veloce come un fulmine ridendo levando di scatto la sua superba testa posso lanciare il guanto a chi mi pare è un anno bisestile le sue parole risuonarono cristalline più armoniose del tubar della tortora ma tagliarono glacialmente il silenzio c'era quel non so che nella sua voce giovanile che diceva che lei non era una con cui si potesse scherzare alla leggera quanto a mister Reggie con le sue arie e i suoi quattro soldi lei poteva anche metterlo da parte come spazzatura e non avrebbe ripensato a lui neppure una volta e avrebbe strappato quella sciocca cartolina in mille pezzi e se dopo lui avesse osato sia pur lontanamente lei era capace di inchiodarlo sul posto con una di quelle sue occhiate di misurato disprezzo la povera signorinetta edi abbassò le penne non poco e Gerti si accorgeva vedendo la nera come una cappa di camino che era furibonda per quanto non nascondesse brutta forfecchia perché la frecciata aveva centrato in pieno la sua gelosia meschina e tutti e due sapevano che lei era al di sopra di certe cose come in un'altra sfera che non era delle loro e c'era anche qualcun altro che sapeva e vedeva e loro potevano anche prendersela su e portarsela a casa edi sistemò il piccolo Borman prima di andare e ci si mise nella carrozzina la palla e le vanghe e i secchielli ed era ora perché stavano arrivando i pisani per il signorino Borman e ci si gli disse pure che ce n'era un treno carico e che bisognava far la nanna e il piccino faceva le risatine con gli occhiuzzi ridenti e ci si per scherzo gli fece il sollettichino al pancino e lui senza nemmeno dire con permesso rovesciò i suoi complimenti sul bavaglino nuovo mamma mia porcellino che non sai altro protestò Cissi ha rovinato il bavaglino il lieve contattante assorbì la sua attenzione ma in 4 e 4 8 ella sistemò la faccenduola Gerti soffocò una mezza esclamazione e tossì nervosamente e di chiese cosa c'era e lei stava per rispondere di prenderlo al volo ma lei si comportava sempre da signore così riperò semplicemente con un tratto consumato dicendo che quella era la benedizione perché proprio allora risuonò la campana dal campanile sulla spiaggia tranquilla del mare perché il canonico Hanlon era salito all'altare con il velo che padre Conroy gli metteva sulle spalle dando la benedizione col santissimo sacramento in mano che scena toccante là tra le ombre del crepuscolo che si addensavano l'ultimo bagliore di Erin il commovente rintocco di quelle campane serotine che al tempo stesso un pipistrello uscì dal campanile rivestito d'edera nella mezza luce svolazzando qua e là con un esile grido sperduto ed ella poteva vedere a distanza le luci dei fari tanto pittoresche che le sarebbe piaciuto di rifarle con una scatola di colori perché è più facile che rifare un uomo e tra poco il lampionaio avrebbe iniziato il suo giro al di là del recinto della chiesa presbiteriana e lungo l'umbratile Tritonville Evnio dove passeggiavano le coppie e avrebbe acceso il lampione vicino alla sua finestra dove Reggie Willy soleva girare a ruota libera come aveva letto in quel libro Il lampionaio di Mrs. Cummins autrice di Mabel Hogan e altri racconti perché Gertie aveva i suoi sogni di cui nessuno sapeva nulla ne piaceva di leggere poesie e quando ebbe come ricordo da Berta Sapl quell'incantevole album di confessioni con la copertina rosa corallo per scriverci dentro i propri pensieri lo mise nel cassetto del tavolino da toletta che per quanto non peccasse di lusso eccessivo era scrupolosamente ordinato e pulito era là che teneva i suoi piccoli tesori di fanciulla i pettini di tartaruga il distintivo di figlia di Maria il profumo di rosa bianca la ciglioleina il portaprofumi dell'abastro e i nastri di ricambio per quando la sua roba tornava di lavanderia e c'erano dentro dei bei pensieri scritti in inchiostro violetto che aveva comprato da Heli di Dumpstreet perché sentiva di poter scrivere poesie solo se avesse potuto esprimersi come quella poesia che le fece un'impressione così profonda e se l'era ricopiata dal giornale che aveva trovato una sera dove erano rinvoltati gli odori sai reale o mio ideale si chiamava di Louis Flesche di Magerfeld e dopo c'era qualcosa com'è crepuscolo se mai tu e più volte la bellezza della poesia così triste nella sua grazia transeunte le aveva offuscato la vista con lacrime e silenti per gli anni che le fuggivan via a uno a uno e se non fosse per quell'inconveniente lei sapeva ne non dover temere confronti ed era stato un incidente scendendo da Darkly Hill e lei cercava sempre di nasconderlo ma doveva pur finire lo sentiva se gli scorgeva negli occhi quell'irresistibile malia nulla più sarebbe valso a trattenerla contro l'amore non c'è porta che tenga avrebbe contuto il grande sacrificio ogni suo sforzo sarebbe stato diretto a condividere i pensieri di lui e sarebbe stata più cara di ogni altra cosa al mondo ed avrebbe indorato i suoi giorni di felicità quella era la questione più importante di tutto e lei ardeva di sapere se era sposato o un vedovo che avesse persa la moglie o qualche tragedia come quella del nobile con quel nome straniero della terra del canto che aveva dovuto farla rinchiudere in manicomio crudele ma solo per bontà ma anche se che mai vi sarebbe poi stata una gran differenza da tutto ciò che minimamente suonasse indelicato la sua delicata natura istintivamente ripugnava abburriva quel genere di persone donne perdute che battono il marciapiede lungo il dodder che andavano coi soldati e con gente grossolana senza rispetto per l'onore di una ragazza che disonorano il loro sesso e si fanno accompagnare al posto di polizia no no questo no sarebbero stati soltanto buoni amici come un fratello maggiore e una sorella senza tutto il resto la donta delle convenzioni della società con la s maiuscola forse era per una vecchia fiamma che portava il lutto dai bei giorni che non tornano più credeva di capire avrebbe cercato di capirlo perché gli uomini sono così diversi il vecchio amore aspettava aspettava con le bianche manine tese con gli occhi azzurri imploranti o cuore mio avrebbe seguito il suo sogno d'amore i dettami del suo cuore che le diceva come lui fosse tutto per lei l'unico uomo in tutto il mondo che facesse per lei poiché è l'amore a governare il mondo nient'altro importava a tutti i costi sarebbe stata indomabile sfrenata libera il canonico o'hellon ripose il santissimo sacramento nel tabernacolo e il coro cantò laudate dominum omnes dentes e poi chiuse lo sportello del tabernacolo perché la benedizione era finita e padre conroy gli porse il berretto e quella gatta furiosa di edi le chiese se non veniva anche lei ma Jack Coffrey gridò guarda guarda Cissy e tutti guardarono era forse un lampo di calore ma Tommy lo vide anche di là dagli alberi accanto alla chiesa azzurro e poi verde e violetto sono i fuochi artificiali disse Cissy Caffrey e corsero tutti lungo la spiaggia facendo una gran confusione per vedere al di sopra delle case e della chiesa edi con la crazzina e il piccolo borman dentro e Cissy che teneva per la mano Tommy e Jacky perché non inciampassero nel correre vieni Gerti gridò Cissy sono i fuochi della pesca di beneficenza ma Gerti fu tetragona non aveva alcuna intenzione di stare a loro disposizione se loro volevano scavallare come diavoli come diavoli lei invece rimaneva tranquilla a sedere e così disse che vedeva veramente bene da dove era gli occhi che le erano incollati addosso le mettevano il formicolio nelle vene ma guardò un istante incrociando il suo sguardo e la luce si fece in lei c'era una passione rovente in quel volto passione tacita come una tomba ed era quella che l'aveva resa sua finalmente erano rimasti soli senza nessuno a sbirciare a far commenti e lei sapeva che di lui si poteva fidare fino alla morte costante un uomo tutto ad un pezzo un uomo d'onone inflessibile fino alla punta delle unghie le mani e il volto di lui vibravano e un tremito la pervase tutta si piegò tutta all'indietro per vedere meglio i fuochi e si strinse un ginocchio tra le mani per non cadere guardando in su e non c'era nessuno a vedere solo lui e lei quando senza parere rivelò tutta la graziosa vaghezza delle gambe ben modellate flessibili e delicatamente arrotondate e le pareva sentire il palpito del cuore di lui e il suo ranco respiro perché sapeva tutto delle passioni di uomini di quel genere al sangue caldo perché Berta Sapl le aveva detto una volta in segreto e le aveva fatto giurare che mai avrebbe di quel signore che era loro inquilino che era dell'ufficio a zone sovrappopolate e aveva fotografie di ballerine con le gambe per aria ritagliate dai giornali e lei diceva che lui poi faceva qualcosa di poco bello che ci si può immaginare delle volte stando a letto ma questa era tutta diversa da una cosa come quella perché tutta la differenza stava lì perché lei poteva quasi sentirsi attirare il viso contro il suo e sentirne il primo rapido caldo tocco delle sue belle labbra e poi c'era la soluzione finché non si faceva quell'altra cosa prima d'essere marito e moglie e ci dovrebbero essere preti donne capaci di capire senza bisogno di dir loro tutto e anche Cissi Keffrey qualche volta aveva quel certo sguardo sognante negli occhi perché anche lei cara mia e Winnie Raipegan così fanatica per le fotografie degli attori e oltretutto era per via di quell'altra cosa che arriva in quel modo e Jackie Keffrey gridò che guardassero non era un altro e lei si gettò all'indietro e le giarrettiere erano azzurre per intonarsi e per mettere in rilievo la trasparenza e tutti lo videro e urlarono di guardare guarda eccolo ma lei si gettò ancora di più all'indietro per vedere i fuochi e qualcosa di strano volava per aria qualcosa di morbido avanti e indietro scuro ed essa vide un lungo bengale che saliva di là dagli alberi su su e in un silenzio teso a tutti mancò il fiato per l'eccitazione mentre saliva sempre più in alto e lei dovette gettarsi sempre più all'indietro per seguirlo con lo sguardo in alto in alto quasi apertita d'occhio e il suo volto era soffuso di un divino seducente rossore per lo sforzo e lui poteva anche vedere altre cose di lei un tandine di batista il tessuto che accarezza la pelle meglio di quelle altre mutande a pantalone verdi a quattro scellini e undici pez perché erano bianche e lei lasciava che lui e vedeva che lui vedeva e poi salì così in alto che si sottrasse alla vista un istante e lei tremava in ogni parte del corpo per essere così gettata all'indietro e lui poteva vedere tutto quel che voleva al di sopra del ginocchio dove mai nessuno neanche sull'altalena o quando si mettono i piedi in acqua e lei non si vergognava e lui neanche di guardare in quel modo impudico perché lui non poteva resistere alla vista di quelle mirabili rivelazioni semi-profferte come quelle ballerine che si comportano così impudicamente sotto gli occhi dei signori e lui continuava a guardare guardare avrebbe voluto gridare con voce soffocata tendergli le svelte brazzanive perché gli venisse sentire le sue labbra posarsi sulla sua bianca fronte il grido d'amore di una fanciulla un piccolo grido strozzato strappatole a forza quel grido che è risuonato nei secoli dei secoli allora partì un razzo e pam uno sprazzo di luce accecante e oh e bengala scoppiò e fu come un sospirale di oh e tutti gridarono oh oh in estasi di rapimento e ne sgorgò un fiotto di pioggia di fili d'oro e si sparsero e ah allora erano tutte roride stelle verdastre che cadevano con altre dorate e così vive oh così tenere dolci tenere poi tutto si sciolse rugiadosamente nell'aria grigia tutto d'acque ah gli lanciò uno sguardo nel chinarsi rapidamente in avanti un piccolo sguardo patetico di pietosa protesta il pudico rimprovero sotto il quale gli avvampò come una fanciulla egli si appoggiava alla roccia dietro di lui Leopold Bloom sì non altri che lui e là in piedi silenziosa testa bassa di fronte a quei giovani occhi innocenti che brutto è stato un'altra volta quel lavoro una bella anima illibata si era rivolta a lui miserabile come aveva risposto un vero farabutto era stato lui proprio lui ma c'era un'infinita riserva di misericordia in quegli occhi una parola di perdono anche per lui per quanto avesse errato e peccato e vagato non andrebbe a raccontare una ragazza no mille volte no era il loro segreto loro soltanto soli nel crepuscolo avviluppante e non c'era nessuno che sapesse e potesse dire eccettuato quel piccolo pipistrello che volava piano piano qua e là nella sera e i piccoli pipistrelli non parlano cissicafri rischiò imitando i ragazzi sul campo di gioco del calcio per far vedere che era da più degli altri e poi gridò garti garti noi andiamo forza si vede di quassù garti ebbe un'idea una delle piccole astuzie d'amore infilò una mano nel taschino e tirò fuori il batuffolo d'ovatta e lo agitò in risposta senza farsene accorgere da lui si capisce e poi lo rinfilò a posto mi domando se è troppo lontano per si alzò era addio no doveva andare ma si sarebbero incontrati di nuovo là e lei sognerebbe quell'incontro fino a quel momento domani quel suo sogno di ieri sera si trizzò del tutto e loro anime si incontrarono in un ultimo sguardo indugiante e gli occhi che le giunsero al fondo del cuore pieni di uno strano uccichio aleggiarono affascinati sul suo dolce volto simile a un fiore accennò un pallido sorriso verso di lui un dolce sorriso di perdono un sorriso prossimo alle lacrime e poi si separarono lentamente senza guardarsi indietro ella percorse la spiaggia diseguale verso Cissi e Daddy verso Jack e Tommy Keffrey verso il piccolo Borman era più scuro ora e c'erano sassi e pezzetti di legno sulla spiaggia e alghe scivolose camminava con quella certa quieta dignità che la era propria ma con cautela e molto lentamente perché Garty Mcdowell era scarpe strette no è zoppa oh Mr. Bloom la osservava zoppicare povera figuola ecco perché è rimasta là in asso e le altre correvano via mi pareva bene che ci doveva essere qualcosa dal suo aspetto bellezza piantata in asso un difetto è dieci volte peggiore in una donna ma le rende gentili sono contento di non averlo saputo quando si metteva in mostra però è sempre una ragazzina col diavolo in corpo non mi dispiacerebbe una curiosità come una monaca o una negra o una ragazza con gli occhiali quella stravica e delicata alla vicina ad aver le sue cose immagino e questo le rende suscettibili ho un tal mal di testa oggi dove ho messo la lettera sì benissimo ogni sorta di voglia pazza le care monetine la ragazza del convento tranquilla mi disse la monaca mi piaceva l'odore dell'olio di rocca le vergini finiscono pazze credo sorella quante donne a Dublino ce l'hanno oggi Marta lei qualcosa nell'aria è la luna ma allora perché tutte le donne non hanno i mestrui allo stesso tempo con la stessa luna voglio dire dipende da quando son nate credo oppure partono tutte in tromba contemporaneamente e poi perdono il passo qualche volta molli e mille insieme comunque ne ho cavato quel che potevo fortuna che non l'ho fatto stamani nel bagno con quella sciocca lettera ti punirò mi ha ripagato di quel tranviere di stamani quel rompiscato di meccoi che si ferma per dir sciocchezze e la moglie con la tournée in provincia per la valigia voce che fa allegare i denti grato anche per poco e poi a buon mercato basta domandare perché son loro che lo vogliono un bisogno naturale escono a stormi tutte le sere dagli uffici meglio essere riservati non ne vuoi sapere e te lo buttano dietro pigliali vivi oh peccato che non possano vedersi come sono un sogno di calze ben riempite dover ah si le visioni al mutoscopio in capo street per uomini soli guardare dal buco della serratura il cappello di willy e quel che le donne ne hanno fatto sono riprese dal vero quelle ragazze o è tutto trucco effetto di lingerie cercava le curve nel suo desabille recita anche quando sono son tutta pulitina vieni a sporcarmi e se la godono a vestirsi a vicenda per il sacrificio mille andava pazza per la nuova camicetta di molly alla prima si mettono tutta quella roba addosso per il gusto di levarsela molly perciò le ho comprato quelle giarettiere violette e noi anche la cravatta che aveva quelle calze tanto carine e i pantaloni con il svolto portava un paio di ghette la sera che ci siamo incontrati la sua bella camicia faceva faville sotto il come si chiama di gaietto dice che una perde un po' di fascino per ogni spillo che si leva tenute su a forza di spilli ma luce ha perduto lo spillo alle messa su in gingheri per qualcuno la moda è parte del loro fascino cambia proprio quando sei sulla strada di scoprire il segreto eccetto in oriente maria marta ora come allora non si rifiuta nessuna offerta ragionevole e non aveva neppure fretta quando l'anno è per andare da un amico non dimenticano mai un appuntamento fuori all'avventura probabilmente credono nella sorte perché come loro e le altre pronte a punzecchiarla amichette di scuola sempre con le braccia intorno al collo con le mani intrecciate a baciarsi e sussurrarsi segreti da nulla nel giardino del convento le monache con le facce imbiancate la cuffia gelida e i rosari che van su e giù e poi vendicative per quel che non possono avere filo spinato vada bene di scrivermi ora e io ti scriverò vero che lo farai molly e josey powell finché non arriva l'uomo del sogno e allora ci si vede una volta ogni morte del papa tablò guarda chi si vede per amor di dio e come va è stato di te si baciano di vederti a cercare difetti l'una nell'aspetto dell'altra hai un ottimo aspetto anime gemelle che si mostrano i denti quanti te ne restano non alzerebbero un dito l'una per l'altra son diavoli quando gli sta per arrivare aspetto cupo e diabolico molly mi diceva spesso di sentirsi addosso il peso di una tonnellata grattami la pianta del piede così così meraviglioso mi par di sentirlo anch'io è bene riposarsi una volta ogni tanto chissà è male andare con loro in quelle circostanze sicurezza in un certo senso fa cagliare il latte fa spezzare le corde del violino qualcosa che ho letto delle piante che ne appassiscono in giardino e poi dicono che se il fiore che porta addosso appassisce è una civetta tutte lo sono direi che si era accorta che io quando ti senti così finisci spesso per incontrare quello che senti mi piacevo che cosa guardano al vestito hanno sempre quando qualcuno fa loro la corte colletti e polsini beh lo fanno i galli i leoni e anche i cervi però potrebbero preferire una cravatta sfatta o qualcosa del genere pantaloni e se io quando ero no bisogna avere il tocco leggero non gli piace la maniera forte baciarsi al buio e non dirlo a nessuno ha visto qualcosa in me chissà cosa mi preferisce così come sono a qualche poi tucolo coi capelli unti di pomata e il ricciolo tirabaci sull'oculare di dritta per collaborare al lavoro let dovrai curare l'aspetto alla mia età non mi sono lasciato vedere di profilo da lei eppure non si sa mai belle ragazze che sposano uomini brutti la bella la bestia e poi non sono così semolli sarà levata il tappello per far vedere i capelli disa larga comprata apposta per nascondersi il viso se incontra qualcuno che la conosca chinar la testa o portarsi un mezzolino di fiori da odorare capelli forti quando è in fregola ho avuto dieci scellini per i ritagli dei capelli di molli quando eravamo in secco a hall street perché no supponiamo che lui gli abbia dato del denaro perché no tutto un pregiudizio vale dieci quindici scellini anche una sterlina come non lo credo tutto questo per niente calligrafia decisa mrs merion ho mica scordato di scrivere l'indirizzo su quella lettera come la cartolina che mandai a friend e quel giorno che andai da dream senza cravatta quella scenata con molly che mi aveva messo fuori squadra no non mi ricordo richi calding un altro mi è rimasta sullo stomaco buffo mi si è fermato l'orologio alle quattro e mezza povere olio di fegato di squalo adoperano per pulirlo e potrei far da me risparmio è stato proprio quando lui lei o lui ha fatto in lei lei ha fatto fatto ah mister bloom con mano cauta rimise a posto la camicia bagnata dio quel diavoletto zoppo comincia a diventare fredda e viscosa conseguenza spiacevole conseguenza spiacevole eppure bisogna liberarsene in qualche modo a loro non importa magari anche lusingate vanno a casina col pane e l'atbuccio e poi a dirle preghiere della sera coi marmocchi beh non proprio vederla vederla con me guasta tutto ci deve essere la messa in scena il rossetto il costume gli atteggiamenti la musica anche il nome amore di attrizi nel quinn missis brush gertl mod branscombe sul sipario e azente ai razzi della luna rivela una fanciulla col seno pensoso vieni tesoruzzo a darmi un bacio ento ancora che forza che ti dà è lì il segreto fortuna che mi son liberato là dietro venendo via da dignam sidro ecco cos'era altrimenti non avrai potuto ti fa venire voglia di cantare do a caos esant taratara vediamo se l'avessi parlato di che che dà infelice però se non si sa come finire la conversazione fai una domanda e loro te ne fanno un'altra buona idea se si è bloccati guadagnar tempo ma dal tonde sei nei plastici meraviglioso naturalmente se tu dici buonasera e vedi che lei si sta buonasera oh ma quella sera buia sulla via appia per poco non parlavo a mrs clint o credendo che fosse la ragazza di meath street quella sera tutte le porcherie che le feci dire e tutte male le diceva il mio diaretano diceva è così difficile trovarne una che oh se non rispondi quando ti si offrono deve essere terribile per loro finché non ci fanno il callo e mi baciò la mano quando le detti due scellini in più pappagalli preme il bottone e l'uccello squittisce e non mi avesse chiamato signore la sua bocca nell'oscurità e tu un uomo sposato con una ragazza nubile e questo mi piace a loro rubare l'uomo a un'altra donna ma anche sentirlo raccontare per me un'altra cosa felicissimo di liberarmi della moglie di un altro mangiare nel piatto dove ha mangiato lui quel tale oggi da Barton che sputava nel piatto cartilagini masticate quel preservativo ancora nel portafoglio causa dei guai in gran parte ma può succedere una volta o l'altra non credo mica venga è tutto pronto ho sognato cosa il peggio sta per cominciare come cambiano discorso quando la cosa non gli garba chiede se vi piacciono i funghi perché una volta conosceva un signore che oppure chiede cosa stava per dire qualcuno quando ha cambiato idea e si è fermato però se io andassi fino in fondo dire ho voglia di o qualcosa del genere perché ce l'avevo la voglia anche lei offenderla poi far la pace far finta di morire dalla voglia di qualcosa poi rinunciarsi per amor suo si sentono lusingate deve aver pensato a qualche altro per tutto il tempo che male c'è da quando all'età della ragione dov'essere lui lui e lui il primo bacio il gioco è fatto il momento propizio qualcosa dentro di loro si scatena cedevoli si vede dall'occhio sotto sotto le prime impressioni sono le migliori se ne ricordano fino al giorno della morte molli il tenente mulvi che la baciò sotto il muro moresco vicino ai giardini quindici mi disse ma il seno era già sviluppato poi si addormentò dopo il pranzo da glencri fu quando si tornò a casa in carrozza il monte del letto di piume gli grignava i denti nel sonno anche il sindaco le teneva gli occhi addosso valdailon apoplettico eccola laggiù con le altre a vedere i fuochi i miei fuochi su come un razzo giù come una stecca e i bambini devono essere gemelli aspettano che succeda qualcosa vogliono essere grandi si mettono i vestiti di mamma c'è tempo a conoscere il viver del mondo e la bruna con quel casco di capelli e la bocca da negra lo dicevo io che sapeva fischiare bocca fatta apposta come molli perché quella puttana d'alto bordo dice a me aveva una veletta solo fino alla punta del naso mi dispiace scusi dirmi che ore sono e dirò che ore sono in quel vicoletto buio dire prugne e prismi quaranta volte tutte le mattine e la cura per le labbra grosse e poi accarezzava il piccino gli spettatori vedono tutto il gioco naturalmente capiscono gli uccelli gli animali i bambini la loro partita non si è voltata a guardare nel ridiscendere la spiaggia non voleva dare la soddisfazione le belle le belle quelle belle ragazze in riva al mare degli occhi che aveva limpidi è il bianco dell'occhio a dare risalto non la pupilla sapeva quel che io sì capì come il gatto che sta dove il cane non può arrivare le donne le donne non lo trovano tutti i giorni uno come quei quintins alla scuola media che aveva disegnato una venere con tutti gli ammennicoli di lui in mostra e la chiamano innocenza povero idiota la moglie ha il lavoro tagliato su misura per lei non ne vedi mai sedersi su una panchina con l'avviso verniciata di fresco hanno gli occhi dappertutto guardare sotto il letto in cerca di quello che non c'è sperano di avere un bello spavento acute come spilli sono quando disse a molly che l'uomo all'angolo del calf street era un bel ragazzo pensavo le piacesse detto subito che aveva un braccio finto e ce l'aveva come fanno la dattilografa che saliva a due scalini alla volta alle scale di roger green per far vedere quel che poteva tramandato di padre no di madre figlia voglio dire ce l'hanno nel sangue mille per esempio che faceva asciugare il fazzoletto sullo specchio per risparmiare la stiratura il posto migliore per un annuncio che debba attirare lo sguardo di una donna uno specchio e quando la mandai a ritirare da prescott quello scialle di molly a proposito c'è quello annuncio che riportò il resto nella calza piccola volpe non gliel'avevo mica detto io e porta così bene i pacchetti anche attira gli uomini piccola com'è al sobra mano la scuoteva per lasciar fluire il sangue quando era rossa chi l'ha imparato da nessuno una cosa che mi ha insegnato la balia oh e non lo sanno a tre anni era davanti al tavolino della toaletta di molly subito prima che lasciassimo l'ombra street west a un bel visino molly che così va il mondo studentello dunque non ha le gambe storte come quell'altra ma non era da buttar via io son bagnato diavolo che sei la curva la curva di la curva di quel polpaccio calce trasparenti tese fino a rompersi non come quella befana ridicola di oggi ah e cance raggrinzate o quella di clefton street bianche da polpacci grossi un razzo a ghirlanda scoppiò in aria sputacchiando i suoi petardi darbeggianti e ci si è tommy via di corsa a vedere ed è di dietro con la carrozzina e poi gherty oltre la curva delle rocce sta per guarda guarda attento è voltata ha mangiato la foglia cara ti ho visto la ho visto tutto dio però mi ha fatto bene un po' fuori squadra dopo Kirnan Vignam per questo sollievo siamo grazie a te e nell'amleto dio sono state tutte quelle cose combinate insieme eccitazione quando si è chinata all'indietro ho sentito una fitta alla radice della lingua la testa te la fan proprio girare ha ragione però avrei potuto fare peggior figura invece di parlare di niente allora ti dirò tutto però era una specie di linguaggio tra noi due non potrebbe essere no la chiamavano gherty potrebbe essere un nome falso però come il mio e l'indirizzo ad alfins barn uno schermo il suo nome di ragazza era zamina brown e stava con sua madre a irishtown al posto che mi ci ha fatto pensare credo tutte tinte della stessa pece puliscono le penne sulle calze ma la palla è rotolata fino a lei come se capisse ogni palla al suo bersaglio è vero che quando ero a scuola non riuscivo a fare nessun tiro dritto è un prestorto come un corno di becco triste però che duri solo pochi anni finché non si sistemano a lavare le pentole e i pantaloni di papà tra poco andranno bene a Willy il silicato d'alluminio per il pupo quando gli fanno fare cacca non è un lavoro leggero le salva le ten lontane dal male natura lavar bambini lavar cadaveri dignam mani di bimbo sempre attaccate a loro crani come noci di cocco scimmiotti non sono neanche chiusi al principio latte acido tra le fasce e caglio andato a male non avrebbe dovuto dare a quel bambino una tettarella vuota da succhiare mi è in piedaria mrs bufois purfois devo fare una capatina all'ospedale chissà se c'è ancora l'infermiera kellen veniva certe sere quando molly era alla casa del caffè quel dottorino oar l'ho vista spazzolargli il soprabito e mrs brin mrs dignam anche loro così un tempo ragazze da marito peggio di tutto la notte mi disse mrs duggan al city arms marito che piombava dentro ubriaco puzzando d'osteria come un caprone averlo sotto il naso al buio puzzo di spirito acido e la mattina a chiedere ero ubriaco ieri sera comunque è una politica sbagliata comunque è una politica sbagliata quella di trovare le colpe del marito i galletti tornano sempre al pollaio stanno l'uno accanto all'altro come se fossero incollati forse è ancora un po' colpa delle donne è qui che molly dà dei punti a tutte è il sangue del sud moresco anche la forma la linea mani cercavano le opulente fa un po' il paragone con quelle altre moglie chiusa in casa segreto di famiglia mi permetta di presentare la mia ed ecco che ti tirano fuori qualcosa di indefinito non sai come chiamarla si vede sempre il punto debole di qualcuno nella moglie ma anche lì è destino nell'innamorarsi hanno segreti tra di loro tipi che andrebbero a pezzi se la donna non prendesse le redini poi delle ragazzinette altre due soldi di caccio con i loro maritini glieli fa e poi li accoppia qualche volta riescono bene i figli due volte zero fa uno ho il settantenne ricco e la sposina tutta rossa sposarsi a maggio e pentirsi a dicembre questo bagnato è spiacevolissimo appiccicaticcio oh il prepuzio non è tornato a posto meglio staccare ah d'altra parte uno spilungone alto sei piedi con una mogliettina che non gli arriva alla catena dell'orologio per le lunghe e per le brevi l'articolo il stranissimo che l'orologio gli orologi a polso non vanno mai bene chissà se c'è un'influenza magnetica tra la persona perché era circa l'ora che lui si direi immediatamente quando il gatto non c'è i topi ballano mi ricordo di aver dato un'occhiata in pillen e anche questo è magnetismo dietro a tutto c'è il magnetismo la terra per esempio tira a sé ed è tirata e questo genera movimento e il tempo? beh il tempo che ci vuole per il movimento poi se una cosa si fermasse tutta la baracca si fermerebbe pezzo per pezzo perché è tutto collegato l'ago magnetico ti dice quel che succede nel sole nelle stelle pezzettino d'acciaio si avvicina alla calamita vieni vieni tac come l'uomo la donna calamita e azzaio moglie e lui si mettono in ghingeri e guardano e alludono e ti fan vedere e ti fan vedere di più e ti sfidano se sei un uomo a vedere e come quando arriva uno starnuto le gambe guarda guarda sei sangue nelle vene tac dovuto scaricarmi chissà cosa prova lei da quelle parti la vergogna è una finta per quando c'è qualcun altro la scombussola di più un buco in una calza molli macella in fuori e testa indietro per quel colono in stivali e speroni al concorso ippico e quando c'erano gli imbianchini in Lombard Street West bella voce aveva quel tale così ha cominciato Giulini senti l'odore come fiori non c'era che dire violette forse era la trementina nella vernice sanno metter tutto a profitto mentre faceva quel lavoro strusciava la sabatta sull'impiantito perché non sentissero ma ce ne sono molte che non sanno concludere mi pare restano in sospeso per ore una specie di generale tutti in giro e fino a metà schiena aspetta sì ha il suo profumo perché ha fatto cenno con la mano ti lascio questo perché tu pensi a me quando sarò lontana sul cuscino che cos'è eliotropio no già sento rose mi pare e dovrebbe piacere un profumo come questo dolce e da poco prezzo si guasta presto perché a molli piace l'opo ponax e si addice mescolato a un po' di gelsomino le sue note alte e quelle basse al ballo la sera che l'ha incontrato danza delle ore un calore lo faceva sentire vestiva di nero e c'era ancora il profumo dell'altra volta buon conduttore il nero oppure cattivo la luce anche credo che ci sia qualche rapporto per esempio se vai in cantina dove c'è buio è una cosa misteriosa anche perché l'ho sentito solo ora ci ha messo del tempo a venire proprio come lei lenta ma sicura credo che siano tanti milioni di particelle portate qua dal vento sì è così perché quelle isole delle spezie quelle di silon stamani si odorano a leghe di distanza ti dico io cos'è è come un velo fine o una ragnatella fine che hanno sulla pelle fine come come si chiama fili di vergine e te la filano fuori tutto il tempo fine come nient'altro come colori d'arcobaleno senza saperlo resta attaccato a tutto quel che si leva di dosso in piede delle calze scarpa ancora calda busto mutante un calcetto per revarsene arrivederci alla prossima volta anche la gatta ci prova gusto a odorarle la camicia sul letto riconoscerebbe l'odore tra mille acqua del bagno anche mi rammenta le fragole con la panna chissà dove poi veramente là o le ascelle o sotto il collo perché esce da tutti i buchi e gli angolini profumo di giacinto fatto con olio o etere o qualcosa del genere rat muschè sacco sotto la coda un granellino manda profumo per anni e i cani a odorarsi dietro buonasera sera come annusi benissimo grazie gli animali si riconoscono così ma sì a guardare da quel punto di vista siamo lo stesso alcune donne per esempio se sono in quel periodo tengono a distanza avvicinati un puzzo da attaccarsi il cappello a cosa assomiglia faringe in scatole andate a male oppure bah mi prega di non camminare sull'erba forse anche loro si sentono addosso all'odore di maschio ma che cos'è guanti appestati di sigaro che Long John aveva sul tavolino l'altro il fiato dipende da quel che si mangia e si beve no odore d'uomo voglio dire deve essere qualcosa che ha a che fare con quello perché i preti si suppone non sono diversi le donne si ronzano attorno come le mosche alla merassa separate dalla griglia si avvicinano all'altare più che possono per arrivarci l'albero del prete è proibito padre mio mi spiace di lasci che sia la prima si diffonde per tutto il corpo l'opernia fonte di vita ed è curiosissimo l'odore salsa di sedani lasci che mister blum ficcò il naso nella apertura del panciotto mandorle o no lemoni ecco ah no questo è il sapone oh a proposito la lozione non sapevo non sapevo che c'era qualcosa non ci sono tornato e non ho pagato il sapone mi secca portarmi dietro bottiglie come quella strega di stamani in essa avrebbe potuto darmeli coi tre cellini potevo fare il nome di meger per ricordarglielo però se mi fa mettere quel trafiletto due cellini e nove pens avrà una cattiva opinione di me passerò domani quanto le devo tre e nove due e nove il signore ah un'altra volta forse non farà credito si perdono i clienti in quel modo succede bar la gente lascia che il conto si allunghi sulla lavagna e poi svicola dietro per frequentare un altro locale ecco quel nobile che è passato di anzi saltato fuori dal mare è andato fin lì ed è tornato indietro sempre a casa all'ora di pranzo sempre in bolsito si deve essere impinzato a dovere ora a godersi la natura benedicite dopo i pasti dopo cena una bella passezzata certo che ha un conticino in banca da qualche parte funzionario gover andargli dietro ora innervosirlo come me quegli strilloni ieri però si impara sempre qualche cosa vedersi come ci vedono gli altri purché non ci scherniscano le donne che importa è il modo di scoprire le cose chiediti chi è ora l'uomo misterioso della spiaggia racconta premio di mister lopold bloom pagamento in ragione di una guinea a colonna e quel tale oggi vicino alla fosse con il macintosh marrone i calli nel suo chismè comunque bene alla salute forse assorbono tutto il rischiare da piovere dicono ce ne deve essere in qualche posto il sale all'ormone era umido il corpo sente l'atmosfera le giunture delle vecchie abetti le fanno vedere le stelle la profezia di mamma shipton a proposito di navi che volano attorno al mondo in un battibaleno vuol dire pioggia al manacco e i lontani colli sembrano approssimarsi out faro di bailey due quattro sei otto nove vedi devi cambiare sennò potrebbero prenderlo per una casa i sciacalli del mare la gente ha paura del buio anche lucciole ciclisti ora ad accendere le luci doielli diamanti splendono di più donne la luce è come rassicurante non ti farò del male meglio ora si capisce che in altri tempi strade di campagna ti bucavano le budella per quattro soldi anche oggi ti puoi imbattere in due tipi busone o sorridente pardon di niente il miglior momento per spruzzare le piante anche all'ombra dopo il tramonto ancora un po' di luce i raggi rossi sono i più lunghi beh si avrebbe insegnato rake wave rosso arancione giallo verde azzurro indico voletto ecco una stella venere non si sa ancora due quando ce ne tre è notte c'erano già quelle nuvole nere sembra un vascello fantasma no aspetta sono alberi illusione ottica miraggio terra del sole calante questa sole dell'autonomia che tramonta sud ovest oh mia terra natia buonanotte lenciula rugiada non fa bene cara mia star seduta su quella pietra provoca perdite bianche mai avere un piccino a meno che sia grosso e forte e si batta per aprirsi il passaggio mi potrei buscare le morroide anch'io appiccicoso come un raffreddore estivo bollicina sulla bocca tagliarsi con l'erba o la carta i peggiori tagli frizione del sedile avrei voluto essere la pietra su cui sedeva piccolo tesoruccio non sai quant'eri carina cominciavano a piacermi a quell'età me le acerbe afferrano tutto quel che capita sotto mano penso che è l'unico caso in cui noi incrociamo le gambe stando a sedere anche la biblioteca oggi e le laureate beate le seggiole dove siedono ma è l'influsso della sera entono tutte queste cose si aprono come fiori conoscono le ore di rasoli carciofi di gerusalemme nelle sale da vallo lampadari piali sotto i lampioni la viola ciocca nel giardino di meblon dove la baciai sulla spalla vorrei avere un bel quadro a olio direi a quel tempo a figura intera era anche giugno quando le facevo la corte l'anno ritorna la storia si ripete picchi e montagne ancora son tra voi vita amore viaggio intorno al proprio piccolo mondo e ora triste per lei zoppa naturalmente ma bisogna stare in guardia e non intenerirsi troppo ne approfittano tutto tranquillo sullo house ora i lontani colli sembrano dove noi i rododendri sono uno sciocco forse lui mangia i fichi e io le bucce per la mia parte tutto quel che ho visto sulla vecchia collina e non mi cambiano è tutto qui amanti stanco mi sento ora devo alzarmi aspetta mi ha succhiato tutto quel che avevo di virile brutta birbona mi ha baciato la mia giovinezza mai più non capita che una volta o la sua andarci col treno domani no il ritorno non è la stessa cosa come quando da piccoli si torna nella stessa casa e ci vuole del muovo niente di nuovo sotto il sole fermo posta ufficio postale di Dolphinsburn non sei felice a ragazzaccio le charade a casa di Luke Doyle a Dolphinsburn va Dallon e quella nidiata di figlie Tini Etty Loi Memi Lou Etty anche Molly era l'87 anno prima che noi è il vecchio maggiore che ti teneva al bicchierino curioso lei figlia unica e io figlio unico così ritorna credi di sfuggire e vai a sbattere in te stesso la via più lunga è anche la più corta per tornare al punto di partenza è proprio quando lui e lei cavallo del circo che cammina in tondo si faceva la charada di Rip Van Weykel Rip strappo nel soprabito di Harry Doyle Van furgoncino del pane che fa le poste Wink telline bicorniette poi feci Rip Van Weykel che torna a casa lei appoggiata alla credenza a guardare occhi moreschi a dormire vent'anni nella valle del sonno tutto cambiato dimenticato i giovani sono vecchi il fucile arrugginito per la rugiada pip cos'è che vola rondine pipistrello probabilmente mi piglia per un albero è così cieco gli uccelli non hanno adorato metemsi così si credeva che uno si potesse trasformare in un albero per il dolore salice piangente pip eccolo là bestiolina buffa chissà dove vive da su nel campanile probabilissimo appeso a testa in giù in odor di santità spaventato dalla campagna mi dà l'idea la messa parche sia finita si sentivano tutti prega per noi e prega per noi e prega per noi buona idea alla ripetizione stessa cosa con gli annunci comprate da noi comprate da noi sì ecco la luce nella casa del prete il loro pasto frugale ricordo quell'errore di valutazione quando ero da Tom è il 28 hanno due case il fratello di Gabriel con Roy è curato pip ancora chissà perché saltano fuori di notte come i topi sono una razza mista uccelli sono come topi che saltellano pip ancora chissà perché saltano fuori di notte come i topi sono una razza mista uccelli sono come topi che saltellano cosa li spaventa la luce o il rumore meglio starsene seduti tutto istinto come l'uccello che durante la siccità tiro fuori l'acqua da un orcio buttandoci dentro i sassolini è come un omino con un mantello con quelle sue mani minuscole ossa microscopiche par di vederli luccicare specie di bianco azzurrastro i colori dipendono dalla luce che si vede guarda il sole per esempio come l'aquila e poi una scarpa non vedi altro che una macchia giallastra ora mettere la sua marca di fabbrica dappertutto esempio quel gatto sul pianerottolo stamani color torba marrone dice che non si vedono mai di tre colori mica vero quella gatta tigrata bianca gialla e nera nel city arms con un M in fronte corpo di 50 colori diversi ha poco fa dametista vedro che lampezza è così che quel sapiente come ne si chiamava con lo specchio storio poi le eriche prendono fuoco non possono essere i fiammiferi dei turisti come? forse i rami secchi si fregano uno con l'altro nel vento e si accendono dei cocci di bottiglie tra i cespugli fanno da specchio stori al sole archimede ci sono non ho poi una memoria così cattiva pip chissà cosa volano fare insetti qui là per la settimana scorsa entrò nella stanza a giocare con la sua ombra sul soffitto potrebbe essere quello che mi appunto tornata a vedere anche gli uzzelli ma si capisce quel che dicono come quando si chiacchiera tra noi alla buona dice lui dice lei coraggio ce l'hanno a trasvolare l'oceano andata e ritorno un mucchio ci deve lasciare la pelle nelle tempeste fili del telegrafo vita da cani anche i marinai quei bestioni di transatlantici che vanno in giro al buio e muggiscono come i vitelli marini fuori dal piano il diavolo che ti porti altri sui battelli vela come un fazzoletto sbattuti qua e là come tabacco da fiuto a una veglia funebre quando soffia vento di tempesta e sono anche sposati qualche volta lontani per anni in capo al mondo ma non c'è né capo né coda veramente perché è tondo una moglie in ogni porto dicono gli ce ne vuole di pazienza per starsene buone finché Johnny non torna a casa trionfante seppur torna annusano i vicoli dei porti ma come fa a piacergli il mare eppure è così si salpa l'ancora e via sul mare con addosso uno scapolare o una medaglia portafortuna bene e il tefilim no come si chiama quel coso che il papà del povero babbo porta sulla porta per scaramanzia che ci ha portati fuori dalla terra d'egitto fin dentro la casa del servaggio qualcosa in tutte quelle superstizioni perché quando si esce non si sa mai quali pericoli attaccato a onas o a cavallo di un pennone per scampare la vita da cane salvagente tutto intorno inghiottire acqua salata ed è l'ultimo giro per vostra signoria prima che lo acciuffino gli squali i pesci soffrono mai il mal di mare e poi ecco una bella bonaccia senza una nube mare liscio placido ciurma e carico fatti a pezzettini nella pancia del serpente marino la luna sta a guardare non è colpa mia vecchio galletto un lungo bengala sperduto salì incerto in cielo dalla pesca di beneficenza mirus in cerca di fondi per l'ospedale mercer e scoppiò ripiombando giù e sparsa intorno un grappolo di stelle viola meno una bianca fruttuarono caddero svanirono l'ora del pastore l'ora degli amplessi l'ora dei convegni amorosi di casa in casa bussando due volte benvenuto come sempre andava al postino delle nove e la lampadina lucciola alla cintura baluginava qua e là di tra le siepi di lauro e tra i cinque giovani alberi un accenditoio levato accese il lampione accese il lampione di lì di terras lungo schermi illuminati di finestre lungo giardini tutti uguali una voce stridula andava gridando querula evening telgraf edizione della sera risultati della corsa della coppa d'oro e alla porta della casa di drignan un ragazzo corse fuori e chiamò squittendo qua e là svolazzava il pipistrello al largo sulle secche strisciava il flusso della marea grigio hauk si preparava al riposo stanco dei lunghi giorni dei rododendri yam yam era vecchio ed era felice di sentire la brezza notturna sollevare scompigliare la sua pelliccia di felci era già sere ma teneva aperto un insonno occhio rosso respirando profondo e lentamente sonno lento ma destro e lontano sul bassofondo di quiche il faro galleggiante lampeggiava a tratti strizzando l'occhio a mister bloom che vita debbono fare quei disgraziati sempre inchiodati allo stesso posto direzione dei fari irlandesi penitenziati per i loro peccati e i guardi a coste anche razzi e salvagente battelli di salvataggio il giorno che si fece quella gita di piacere sull'Erensking buttammo loro il sacco dei giornali vecchi orsi allo zoo gita bestiale ubriachi in gita a ripulirsi il fegato a vomitare fuori bordo per nutrire le alinghe nausea e le donne timor di dio sul volto mille e no non aveva fifa la sciarpa azzurra al vento a ridere non sanno cos'è la morte a quell'età e poi hanno lo stomaco pulito ma se si credono sperse hanno paura quando ci nascondemmo dietro l'albero a Kremlin io non volevo mamma mamma bambini nel bosco e c'è chi gli fa paura con le maschere buttarli in aria e respingerli ti ammazzo sai è proprio solo uno scherzo o i ragazzi che giocano alla guerra sul serio e come come fa la gente a puntarsi addosso i fucili delle volte parte un colpo poveri piccoli unici guai il lattino e l'orticaria la purga il calomelano che le avevo preso per questo dopo la cura dormiva insieme con Molly ma proprio gli stessi denti che cosa amano un'altra se stessa ma la mattina che le corse dietro con l'ombrello forse in modo da non farle del male le sentì il polso tic tac una manina ora grande carissimo papalino cosa non ti dice una mano quando la si tocca mi piaceva contarmi i bottoni del panciotto il primo busto mi ricordo mi faceva venire da ridere che pezzolini tanto per cominciare il sinistro è più sensibile credo anche il mio il più vicino al cuore si imbottiscono sai di moda essere grasse le sue febbre di crescenza la notte mi chiamava mi svegliava paventata quando la natura si manifestò in lei povera bambina momento particolare anche per la madre la riporta all'adolescenza di Vilterra guardando da buona vista torre doara gli uccellini marini stridevano vecchia scimmia di barbaria che si è divorata tutta la famiglia tramonto colpo di cannone per annunciare alle truppe la ritirata me lo disse guardando verso il mare serata come questa ma limpida senza nubi avevo sempre pensato di sposare un nobile o un signore con un panfilo privato buona snosse signorita e l'ombre ama la muccia charmosa perché io perché eri così diverso dagli altri ma egli hanno da star qui tutta la notte attaccato come una cozza ma il tempo intorpidisce devono essere quasi le nove dalla luce andiamo a casa troppo tardi per le A il ciglio di Chilani no potrebbe essere ancora in piedi una capatina all'ospedale per vedere speriamo abbia finito che giornata lunga è stata Marta il bagno il funerale la ditta delle chiavi museo con quelle dè l'aria di Daedalus poi quella mazzasette da Varnikirnan io l'ho detto il fatto suo ubriachi spacconi quel che gli ho detto del suo dio gli ha dato una scossa errore reagire oppure no dovrebbero andare a casa e ridere di sé sempre bisogno di bere in compagnia paura ad essere soli come un bimbo di due anni e se mi avessero colpito guardiamo l'altra faccia della medaglia allora non è così brutto forse non voleva far del male tre è viva per Israele tre è viva per la cognata che si tira dietro dappertutto tre denti in bocca stesso stile di bellezza che bella compagnia per prendere una tazza di tè la sorella della moglie del selvaggio del borneo arrivata oggi nella nostra città immaginarsela di prima mattina a distanza ravvicinata ognuno ha i suoi gusti come disse Morris quando baciò la vacca ma la visita ad Inham è stata l'ultima gozza le case a lutto così deprimenti perché non si sa mai comunque ha bisogno di denaro volevo andare dalle vedove scozzesi come promesso nome buffo sono sicure che saremo i primi a tirar le cuoia quella vedova era lunedì davanti a Kramer che mi guardava sotterrato il povero marito ma ben avviata sull'assicurazione l'obolo della vedova beh cosa ti aspettavi che facesse deve pur tirare avanti i vedovi non li possono vedere hanno un'aria così sperduta quel poveraccio di O'Connor con la moglie cinque figli avvelenati dai datteri di mare qui le fogne senza sapersela cavare qualche brava matrona col cappello a pentolino che gli faccia da madre prenderselo a rimorchio faccia a paletta e grembiulone pantaloncini di donna di flanella grigia tracce linee al paio occasione sbalorditiva bruttina e amata per l'eternità si dice brutta? nessuna donna crede di esserlo amare mentire ed essere bella perché domani si deve morire quello che va in giro di qua e di là cercando di scoprire chi ha fatto lo scherzo uh su destino ecco cos'è lui non io stessa cosa per i negozi l'ho notato spesso sembra che abbia una maledizione sognato ieri notte aspetta qualcosa di confuso aveva babbucce rosse turca portava i calzoni e se anche riportasse piacerebbe col pijama maledettamente difficile rispondere Netti è andato nel postale a quest'ora vicino a Holyfield devo stringere per quell'annuncio di Kiss lavorarmi Hans e Crawford sotto veste per Molly ha qualcosa da metterci dentro quello cos'è forse denaro Mr. Bloom si chinò e rivoltò un pezzo di carta sulla spiaggia si ravvicinò agli occhi e scrutò lettera no non si legge meglio andare meglio sono troppo stanco per muovermi pagina di un vecchio quaderno tutti questi buchi i sassolini chi ce la farebbe a contarli non si sa mai quel che si trova bottiglia con dentro la storia di un tesoro gettata da una nave alla deriva pacco postale i bambini vogliono sempre buttare roba in mare fiducia pane gettato sull'acqua cos'è questo un pezzetto di legno oh ma proprio finito quella femmina non son più giovane tornerà qui domani aspettarla per l'eternità da qualche parte devo tornare gli assassini lo fanno e io mister bloom col pezzetto di legno tormentava delicatamente la sabbia spessa ai suoi piedi scriverle un messaggio potrebbe rimanere cosa io qualche piedipiatto lo pasticcerà domattina inutile sciacquato via la marea arriva fin qua ho visto una pozzanghera vicino al suo piede chinarmi vedersi il mio viso specchio oscuro soffiarci sopra si increspa tutte queste rocce condine cicatrici e iniziali oh quelle trasparenti d'altronde non sanno cosa vuol dire l'altro mondo ti ho chiamato ragazzazzo perché non mi piace sono un non c'è spazio lasciamo andare mister bloom cancellò le lettere con la scarpa lenta sabbia niente da fare non ci cresce niente tutto si cancella non c'è pericolo che ci arrivino le grandi navi eccettuate le chiatte di guinness il giro del chisci in 80 giorni fatto quasi apposta buttò via la penna di legno il bastoncino cadde nella sabbia stacciata dal vento rimase infitto ecco se cercassi di farlo per una settimana di seguito non ce la faresti caso non ci rivedremo più ma è stato bello addio cara grazie mi hai fatto sentir tanto giovane se voleva scacciarsi un pisolino devono essere quasi le nove la nave di liverpool è partita da un pezzo neanche il fumo e lei può fare il resto l'ha fatto è belfast non ci andrò una trottata fin laggiù e poi di ritorno a hannes faccia pure lei chiuder gli occhi un momento però non dormirò dormiveglia un sogno non torna mai ancora il pipistrello nessun pericolo solo qualche oh tesoruccio tutto il tuo piccolo bianco virginale ho visto sporco bless gherl reggi calze mi ha fatto fare amore appiccicaticcio noi due ragazzazzo grace cara lei lui quattro e mezzo il letto metti in che cose pizzi per raul profumo tua moglie capelli neri si sollevano sotto l'opulenza ignorita occhi giovanili mulve grossi capezzoli me furgone vengl ciabatte rosse lei rugginoso dormire vagare anni di sogni ritorno vicoli agendat svenevole amoruccio ma fatto vedere la sua l'anno prossimo in mutande ritorno prossimo nel suo prossimo il suo prossimo un pipistrello volava qui là lontano del grigiole un rintocco di campana mister bloom a bocca aperta la scarpa sinistra infilata di sbieco nella sabbia si chinava respirava solo per qualche cucù cucù l'orologio sul caminetto della casa del prete tubava mentre il canonico ohenlon e padre conroy e il reverendo john higgs s j prendevano il tè col pane e burro e cotolette d'agnello e salsa di pomodoro e parlavano di cucù 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 perché era un bel canarino piccolo piccolo che usciva dalla sua casetta per dire l'ora che gertie mcdowell aveva notato quella volta che c'era andata perché aveva cent'occhi per cose del genere la nostra gertie mcdowell e aveva notato subito che quel signore straniero seduto tra le rocce a guardarla era cucù 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 e aveva notato subito che aveva notato subito